Ciao a tutti, sono Simona Bonadies, lavoro in ambito direzione business in team. Come marketing mi occupo dello sviluppo dell'offerta di team per la scuola e le università. Sono lieta di darvi il benvenuto a questa serie di webinar rivolta ai docenti e ai dirigenti a livello nazionale con cui team congiuntamente a Google ha l'obiettivo di divulgare una maggiore conoscenza ed usabilità degli strumenti inerenti alla piattaforma di produttività Google Workspace for Education che sino a qualche mese fa tutti conoscevamo come G Suite for Education. Oltre il cambio del marchio, Google ha comunicato qualche giorno fa anche dei nuovi profili di servizio di questa piattaforma che si arricchisce di funzionalità innovative per cui abbiamo pensato potesse essere utile a tutti poter approfondire questi strumenti con dei percorsi formativi specifici che potessero appunto garantire una maggiore consapevolezza d'uso. Per cui augurandovi una buona visione passo la parola per un saluto a Marco Berardinelli. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Simona. Sono Marco Berardinelli, appunto, responsabile Google for Education in Italia e sono molto contento di essere qui oggi nel presentare questa iniziativa di formazione che terrà il nostro trainer certificato Luigi, a cui dopo lascerò la parola perché ritengo che se guardo a 14 mesi fa quando ci fu il primo lockdown la situazione è molto cambiata. Team insieme a noi credo che sia una partnership fondamentale nel mondo dell'educazione proprio perché insieme riusciamo a dare delle risposte concrete per permettere ai docenti e quindi alla scuola in senso lato di realizzare di attica innovativa da una parte ma dall'altra parte anche di far assimilare ai nostri ragazzi le competenze più richieste dal mercato del lavoro utilizzando ancora una volta le tecnologie. La nostra tecnologia G Suite for Education come si chiamava ai tempi del lockdown passato del 2020 e Google Workspace for Education come si chiama oggi è sicuramente la piattaforma più utilizzata nelle scuole italiane e l'8 marzo siamo stati chiamati insieme a Team per supportare le scuole, per dare un aiuto concreto in termini di formazione, in termini di prodotti anche e di soluzioni che consentissero in una prima fase ai docenti di poter realizzare didattica a distanza quindi affrontare la situazione d'emergenza, la pandemia ma non interrompere la scuola dall'altra parte riteniamo che le nostre tecnologie unitamente a Team possano sicuramente consentire anche la didattica in presenza a dare una mano, a dare un supporto anche nella didattica in presenza che ci auguriamo torni presto su tutti gli ordini e i gradi della scuola italiana buon lavoro, grazie di essere qui con noi e grazie a Team e do la parola a Luigi ciao a tutti ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti al quarto incontro dedicato a Google Workspace for Education mi ricordo che questo incontro fa parte di un ciclo di 4 webinar che si sono tenuti ogni giovedì alle 17.30 dal 29 aprile fino ad oggi infatti se avete perso gli altri incontri vi segnalo che potete recuperarli andando sul canale YouTube di Team Business in questi incontri ci siamo occupati di tutti gli aspetti che caratterizzano la piattaforma andando a effettuare degli approfondimenti su quelli che sono i temi più importanti per poter utilizzare queste applicazioni a scuola prego subito alla regia cortesemente di mandare in onda la mia presentazione come al solito vi spiego come funziona il pomeriggio che oggi sarà un po' diverso perché ci sarà sempre una prima parte in cui io vi parlerò dell'argomento di oggi oggi in particolare vi parlerò dei Chromebook vi mostrerò come è fatto faremo anche proprio una dimostrazione live e poi prima della solita sessione di domande sarà con noi oggi Stefano Romano di Samsung potete scrivere le domande come sempre cliccando nel quadratino in basso a destra su cui c'è scritto Q&A e io e Stefano proveremo a rispondere a tutte le vostre curiosità nel webinar di oggi quindi come vedete da questa slide concluderemo il nostro viaggio all'interno della piattaforma Workspace andando a parlare quindi del Chromebook il computer basato sul sistema operativo Chrome OS e vedremo come può inserirsi bene nel flusso di lavoro nella scuola entrando in sintonia e in sinergia proprio con Workspace prima di iniziare come sempre mi presento mi chiamo Luigi Parisi sono un insegnante sono un docente appassionato di digitale docente di sostegno e di musica e mi occupo anche da circa dieci anni di formazione proprio in tema di digitale agli insegnanti proprio mi occupo di questo nella scuola abbiamo detto che è un tema che non nasce oggi ma che nell'ultimo anno ha avuto sicuramente ha suscitato molto interesse a causa della situazione di emergenza che si è venuta a creare in tutto il mondo quindi le scuole per fare la didattica a distanza si sono dovute dotare nel caso non lo avessero già fatto di strumenti che permettessero di comunicare e collaborare sono circa dieci anni che mi occupo anche di formazione proprio sulla piattaforma Workspace che come ha ricordato poco fa Marco Berardinelli era conosciuta fino a qualche mese fa come G Suite for Education ma andiamo quindi prima di iniziare come al solito a fare un po' un riassunto di quello che abbiamo visto negli incontri precedenti siamo partiti da una panoramica su Workspace abbiamo visto quali sono i servizi principali della piattaforma abbiamo capito che ci sono dei concetti fondamentali dai quali non si può fuggire se vogliamo utilizzare questa piattaforma uno è il cloud quindi il lavoro diciamo nella nuvola cosiddetta l'altro è il concetto di condivisione che va a superare quello di lavorare un po' alla vecchia diciamo così in modo tradizionale ognuno sul proprio computer e andando poi a scambiarsi i file come degli allegati e quindi anche il concetto di lavoro sincrono tutti questi servizi chiaramente non sarebbero utilizzabili in modo adeguato se non ci fosse, qui passiamo al secondo incontro una persona o più persone i cosiddetti admin, gli amministratori che vanno ad amministrare la piattaforma tramite la console questa console ci permette di limitare i servizi di personalizzare l'esperienza utente e vedremo oggi anche di andare proprio a controllare le macchine ossia i Chromebook infine nell'incontro della settimana scorsa abbiamo fatto un focus su quelle che sono probabilmente le due applicazioni più famose che sono state un po' più conosciute durante la didattica a distanza ma come ha ricordato Marco prima sono strumenti che in realtà vanno benissimo anche per la didattica in presenza quella che ci auguriamo riprenderemo a fare l'abbiamo già ripreso a fare ma che diventerà insomma la normalità a breve quindi Google Classroom e Google Meet ma cominciamo a parlare del Chromebook è un computer di cui avete sicuramente sentito parlare sarete molto curiosi spero che molti di voi lo conoscano già ma per capire bene che cos'è il Chromebook secondo me dobbiamo prima un pochino pensare a che cos'è un computer tradizionale perché noi probabilmente siamo abituati a rapportarci al computer in un certo modo abbiamo in mente una macchina che appunto si chiama Personal Computer una macchina pensata per un utilizzo più che altro singolo anche se poi ci capita di condividerlo con altre persone magari a casa con i nostri parenti però ecco non è una macchina che si presta benissimo a un utilizzo multiplo proviamo a pensare un pochino a che cosa accade a scuola se utilizziamo un PC tradizionale in classe se no ho più PC dobbiamo distribuire per delle attività questi computer che vengono dati a gruppi di alunni o singoli alunni che svolgono il loro lavoro all'interno di queste macchine e poi cosa succede se dobbiamo rifare il lavoro un'altra volta dobbiamo ricordarci qual è la macchina che è stata assegnata alla tale persona o al tal gruppo di persone i dati sono salvati in locale se succede qualcosa, se qualcosa va storto e spesso capita che qualcosa vada storto i dati restano intrappolati all'interno di quel computer bene, il Chromebook capovolge completamente questa prospettiva e immagina una macchina, passatemi il termine, tra virgolette, vuota che non ha nulla al suo interno fino a quando un utente non decide di entrare con il proprio account e magicamente questa macchina diventa la macchina di quell'utente che cosa significa per esempio nell'esperienza che abbiamo appena raccontato con quella tipologia di computer più tradizionale significa che invece con il Chromebook tutti quei problemi che ci sono venuti in mente non andando a lavorare in quel modo lì non esistono più perché io posso dare le macchine indifferentemente a chiunque potrei proprio prendere anche delle macchine appena acquistate tirarle fuori dalle scatole prendere il mio account entrare e in pochi minuti io ritroverò esattamente la mia macchina così come è stata concepita come è stata organizzata dalla mia scuola o dal mio amministratore ma il Chromebook infatti non è che nasca proprio oggi se ne sente parlare negli ultimi tempi ma Google, se andate a guardare sul blog ufficiale giusto un paio di mesi fa ha proprio pubblicato un post per festeggiare come si vede da questa immagine il compleanno del Chromebook perché il Chromebook quest'anno è un anno importante per lui compie 10 anni e in effetti proprio a maggio poi del 2011 nel Google I.O. che è la conferenza annuale degli sviluppatori in cui Google annuncia sempre tutte le grandi novità fu annunciato questo concetto allora ma mi viene da dire anche adesso rivoluzionario di computer quindi una macchina che si adatta alle esigenze dell'utente e quindi mi viene da dire in particolare alle esigenze della scuola in cui ci deve essere la possibilità di utilizzare un computer in modo immediato semplice senza qualcuno che debba per forza intervenire per configurarmelo perché non sempre è possibile avere queste professionalità ma il Chromebook anche se potrebbe in teoria essere utilizzato anche con un account semplice di tipo Google quindi di tipo gmail.com deve la sua fortuna soprattutto all'abbinamento con la piattaforma con Google Workspace for Education infatti non potrete mai gestire bene un Chromebook in modo approfondito in modo super fine se non possedete la piattaforma e poi vedremo anche in particolare la piattaforma abbinata anche alle licenze di Chrome Education Upgrade quindi questo è un binomio che vi ripeterò molte volte oggi molto spesso Chromebook e piattaforma è un binomio indissolubile in qualche modo e torniamo sempre un po' al paragone fra i computer tradizionali e i Chromebook perché anticipo come al solito un po' le domande so che sono le curiosità maggiori e a volte anche un po' i dubbi negli ultimi 15 anni c'è stato un cambio di prospettiva proprio di oggetti digitali diciamo che se fino a un certo punto della nostra storia eravamo abituati ad avere a che fare con un'unica tipologia di macchine di computer con sistemi operativi molto simili che funzionavano in un certo modo poi diciamo che c'è stata una frammentazione e quindi abbiamo da una parte le macchine che chiamiamo computer dall'altra parte gli oggetti che chiamiamo dispositivi mobili gli smartphone e i tablet e una domanda che spesso viene fatta ma è meglio un computer o un tablet? il Chromebook è un computer o è un tablet? beh, secondo me io l'ho messo qui al centro ma non perché sia un po' dell'uno o un po' dell'altro che potrebbe sembrare quasi che non sia nell'uno o nell'altro ma proprio perché secondo me invece il Chromebook è una macchina che riesce a raccogliere il meglio di una parte di sistema e il meglio dell'altra perché sicuramente come sistema operativo il Chromebook è un computer a tutti gli effetti come computer siamo abituati a pensarli noi i sistemi operativi più diffusi cioè non solo una macchina dotata di tastiera e di schermo fatto in un certo modo perché anche sui tablet si potrebbe collegare una tastiera oggi ma sto pensando proprio all'interfaccia ciò che fa di un computer un computer è un'interfaccia pensata con le finestre con le icone piccole un sistema di puntatore che va a interagire come un'interfaccia complessa immaginate Google Doc per esempio quando lo aprite dal vostro computer lo vedete in un modo quando lo aprite dal tablet lo vedete come un'interfaccia semplificata e forse è più comodo lavorarci dal computer tuttavia però il Chromebook soprattutto a partire dal 2017 ossia da quando ha avuto in esclusiva il Play Store come computer e quindi ha avuto una parte di Android a tutti gli effetti si può definire assolutamente un tablet e questo al di là del fatto che sia touch o meno ma la cosa che ci interessa di più è proprio avere la disponibilità del Play Store ossia del marketplace di Google che ci può dare unico computer diciamo in questo momento al mondo un sistema di applicazioni che altrimenti sarebbe impossibile installare se non su un device mobile a tutti gli effetti e non possiamo non parlare di Chromebook se non parliamo di Chrome OS perché Chrome OS è il sistema operativo e il cuore diciamo di tutto il computer Chrome OS che è un sistema operativo ormai chiaramente basato su Chrome molto molto maturo pensate che oggi quando facciamo questo webinar parliamo della versione 90 stabile ed è un sistema che si aggiorna in continuazione gli aggiornamenti sono semplici, continui, immediati non vi faranno perdere tanto tempo non vi capiterà quasi mai anzi non vi capiterà mai di dover stare lì ad aspettare che faccia degli aggiornamenti per ore e avrete sempre un computer aggiornato alle ultime impostazioni giusto per onore della cronaca quando parliamo di Chrome OS parliamo anche di Chrome OS device anche se sono un po' meno diffusi quindi parliamo anche di Chromebox, di Chromebit e di Chromebase ma noi ci concentreremo per la scuola in particolare sull'oggetto che vedete al centro ossia sul Chromebook cioè sul computer portatile made by Google e andiamo a vedere quelle che secondo me sono le sei caratteristiche le ho individuate io ma potrebbero essercene tante altre che veramente fanno del Chromebook un computer un po' diverso dagli altri cominciamo con la prima la facilità d'uso cosa vuol dire facilità d'uso? potrebbe voler dire tante cose ma dobbiamo pensare che sempre tornando un po' al paragone con le macchine tradizionali anche se ci siamo abituati siamo tutti un pochino più bravi però pensiamo proprio a scuola al fatto che ci possono essere delle persone in difficoltà non hanno anche magari gli strumenti proprio per poter impostare un computer dobbiamo dare incomodato d'uso una macchina a qualcuno durante la pandemia è successo spesso provate a dare un computer cosiddetto tradizionale da configurare a una famiglia senza una guida è un'operazione abbastanza complessa potrebbe anche rinunciare a un certo punto perché magari non riesce a compiere tutte quelle operazioni il Chromebook è un computer molto semplice da utilizzare tra poco vedremo anche proprio come avviene questa procedura iniziale mi posso permettere di farvelo vedere proprio perché dura poco mi basta sollevare il coperchio del computer non c'è neanche bisogno di schiacciare il tasto power fa tutto da solo una volta che è stato configurato devo solo inserire il mio nome utente e la mia password quale password? quella è il nome utente e la password del mio account Google Workspace a quel punto quel computer diventa il mio computer con le mie applicazioni le mie impostazioni e tutto ciò che la scuola ha deciso vada bene per quella tipologia di account e chiaramente facilità d'uso vuol dire anche velocità in che senso velocità? intanto velocità proprio di accesso il Chromebook è un computer sempre pronto in questo è molto simile a un tablet perché mi basta veramente una volta che lo sto utilizzando aprirlo e sono subito dentro devo semplicemente entrare e inserire la mia password quindi non c'è bisogno di aspettare tanto per l'avvio questo in classe è importantissimo perché spesso abbiamo i minuti contati come insegnanti e sappiamo che tanti minuti persi anche solo per accendere il computer e per accedere sono minuti persi di didattica non sono minuti persi così in generale velocità però vuol dire anche velocità per esempio di reset pensiamo a un computer che debba essere ripristinato ci vuole un sacco di tempo chiaramente questo per il Chromebook non è vero è vero il contrario perché se avessimo bisogno di ripristinarlo ma vi capiterà veramente poche volte sarà sufficiente effettuare quell'operazione chiamata power wash che mi permetterà di ripristinarlo ai dati di fabbrica nel giro di 2-3 minuti a quel punto il computer è pronto per essere riutilizzato e ancora una volta inserendo il mio account io ricomincio esattamente da dove ho interrotto e anche i tempi di aggiornamento sono molto veloci la batteria è un altro punto a favore del Chromebook un computer leggero che non ha tantissime risorse da gestire al suo interno può permettersi veramente tante ore di utilizzo a me per esempio è capitato in passato quando ancora si poteva fare di andare magari in giornata in treno a Roma, Milano lavorare anche di dimenticare proprio il caricabatterie partendo dal 100% dal 90% ero quasi sempre in grado di riuscire a fare la mia giornata lavorativa con dei flussi di lavoro anche i complessi di email, di messaggistica, eccetera quindi in questo a scuola che vantaggio ha? il vantaggio di non dover dipendere sempre da una presa di corrente sappiamo che per motivi di sicurezza se non abbiamo un'aula attrezzata non possiamo tenere chiaramente cavi, ciabatte in giro per la classe quindi avere un computer che è carico al mattino perché chiaramente mi sono ricordato di inserirlo nel carrello il giorno prima è molto utile perché mi permette di perdere meno tempo e in questo momento anche in cui non si può stare tutti ammassati per esempio vicino a delle prese elettriche per cercare come dei rabdomanti elettricità ci permette di avere una sessione di lavoro lunga senza doverci preoccupare che poi il computer si scarichi e diventi inutilizzabile e poi passiamo alla resistenza perché spesso un computer magari bello esteticamente fa rima con fragilità però non è questo il caso sono dei computer chiaramente che come dice il titolo dell'intervento di oggi pensati per la scuola tengono conto anche degli imprevisti che a scuola possono capitare sappiamo che chiaramente non si fa di proposito però una botta di qua, una caduta dal banco un liquido di acqua, per esempio un bicchiere d'acqua che scivola sulla tastiera sono cose che possono capitare chiaramente non dobbiamo farlo apposta come si suol dire non fatelo a casa però sappiate che sono computer pensati proprio per durare anche da questo punto di vista sono computer che non sono fragili non vanno in frantumi insomma però ecco ribadisco non bisogna provarlo di proposito e sicurezza, passo alla quinta caratteristica vuol dire anche sicurezza dal malware dai virus intanto per un semplice motivo la maggior parte dei virus e dei malware sono fondamentalmente che cosa? degli eseguibili che si vanno a installare nel computer ma se questo sistema operativo non mi permette di lanciare dei file eseguibili avrò molte meno possibilità di beccare virus e malware in ogni caso, anche nel caso in cui dovessi riscontrare qualche problema come vi ho detto basta fare il power wash operazione tra l'altro che può essere effettuata anche in remoto nel caso di computer Chromebook con la licenza Education Upgrade quindi non deve farlo necessariamente l'utente io riporto il computer esattamente come nuovo e ricomincio da capo come se nulla fosse e poi la sostenibilità sostenibilità soprattutto nel senso di computer molto accessibili dal punto di vista del costo perché sono accessibili per la scuola dal punto di vista dei costi e sostenibilità perché è un investimento che dura negli anni sono computer che come vi ho detto prima ricevono aggiornamenti periodici soprattutto questi aggiornamenti durano molti molti anni quindi voi siete in grado sostanzialmente di utilizzare la stessa macchina con le medesime prestazioni non si notano dei caldi prestazioni neanche dopo un po' di anni che la state utilizzando quindi queste in breve sono secondo me le sei caratteristiche di questo computer che ne fanno veramente un unicum in questo momento nel panorama che cosa serve per iniziare con il Chromebook? ovviamente il Chromebook non lo sto neanche a dire e due cose queste sono importanti la prima è una rete wifi anche se chiaramente il Chromebook può funzionare anche con il cavo ma noi dobbiamo avere in mente la nostra classe in questo momento quindi ci serve la rete wifi soprattutto per la prima configurazione e per i primi accessi poi dopo vedremo che il Chromebook non è vero che non si può utilizzare offline si può anche all'occorrenza utilizzare offline ma abbiamo detto cloud che fa rima con connettività sono due parole che dobbiamo avere bene in mente e la seconda, ribadisco, avere un account Google Workspace non utilizziamo il Chromebook con account che non siano quelli della scuola altrimenti non potremo gestirli e non potremo avere tutte le limitazioni e le personalizzazioni che caratterizzano lo strumento ma proviamo ad accendere il Chromebook vediamo che cosa succede quando accende un Chromebook chiaramente questa è una simulazione perché non posso riavviarlo altrimenti perderei adesso la linea e non potrei mostrarvi però vi faccio vedere in breve perché è veramente semplice quello che accade quando io accendo il Chromebook se io lo accendessi per la prima volta se lo avessi appena acquistato troverei una breve animazione con il simbolo di Chrome che gira su se stesso e poi una schermata di benvenuto a questo punto se non ho bisogno di cambiare lingua o di impostazioni particolari di accessibilità posso cliccare subito su iniziamo e come vi ho anticipato poco fa la prima cosa che mi viene richiesta è proprio quella di una rete Wi-Fi io devo collegarmi alla rete per effettuare la prima configurazione quindi inserirò la mia password della mia rete della scuola accetterò i termini di servizio di Chrome OS e qui c'è la prima cosa da fare dobbiamo inserire il nostro account questo account qual è? attenzione, non facciamo confusione con un computer tradizionale dove a volte c'è un utente che non è l'account ma è un account locale questo è l'account del nostro workspace quindi noi entriamo qui e inseriamo il nostro una piccola, anzi due cose su cui fare attenzione la prima è il primo utente che entra diventa in qualche modo il cosiddetto proprietario della macchina quindi è l'utente che non può essere mai rimosso ma chiaramente questa operazione la effettueranno probabilmente gli amministratori che sapranno bene come agire se invece avete una licenza Chrome Education Upgrade dovete cliccare su altre opzioni e proseguire le stesse cose che vi faccio vedere adesso da lì in poi a quel punto il vostro Chromebook sarà registrato e verrà visto dalla console e potrete ancora configurarlo meglio dalla console di amministrazione quindi inseriamo la nostra password andiamo avanti seguiamo l'accesso accettiamo i termini di servizio anche di Google Play Store e attenzione questa è la schermata di accesso al Chromebook quindi in questo momento io ho simulato di essere l'unica persona che sia mai entrata su questo computer e mi trovo di fronte a questa finestra questa sarà la mia finestra tutte le volte che io accenderò il computer apparirà immediatamente mi basterà sollevare il coperchio e io finisco qui dentro cosa devo inserire qui la mia password di Google Workspace e quindi una volta inserita questa password io accedo nel desktop del Chromebook e sono pronto a utilizzarlo che cosa succede invece quando io entro su una macchina che è già stata configurata ci possono essere due possibilità ci sono più account quindi potrei essere Giuseppe Verdi perché sono già entrato in questa macchina e quindi cliccando su Giuseppe Verdi a quel punto poi potrei digitando la mia password entrare e vedere un computer completamente diverso non è più quello di Luigi Parisi ma è il computer di Giuseppe Verdi proprio con limitazioni diverse con sfondo diverso con proprio addirittura posso inserire con le licenze dei blocchi hardware potrei fare in modo per esempio che la fotocamera non sia disponibile per dei motivi di sicurezza o che la porta USB sia disabilitata due computer diversi però all'interno dello stesso computer se invece non vedo il mio nome qui vedete che in basso c'è scritto aggiungi persona cliccando lì digiterò il mio account la mia password ed entrerò nel mio computer quindi come vedete abbiamo simulato l'accesso a un computer diverso il tutto però senza cambiare macchina senza installare niente senza ricorrere a delle complicazioni chiaramente che richiederebbero probabilmente l'intervento di un sistemista di qualcuno che sappia gestire una rete di computer quindi l'account mi raccomando adesso lo ripeto per l'ultima volta è quello di Google Workspace sul Chromebook proviamo a esplorarlo andiamo proprio sul mio desktop e vediamo com'è fatta l'interfaccia di un Chromebook in questo momento come vedete mi sto muovendo in tempo reale la prima cosa che dovete sapere è che sul Chromebook contrariamente agli altri computer non si possono inserire le icone sul desktop però dove trovo le mie applicazioni? in questo ricorda già un po' la sua anima tablet vado su questo tondino in basso a sinistra oppure con il mouse vado con la rotellina verso l'alto e vado a scoprire quello che è la mia dashboard delle applicazioni proprio come se fosse un tablet Android a tutti gli effetti quali sono le applicazioni che troviamo qua dentro? di default troviamo sicuramente tutti i servizi Workspace quindi Chrome documenti presentazioni fogli eccetera eccetera YouTube Drive eccetera e in più ritroviamo già qui dentro tutte quelle web application che sono legate al mio account Workspace se vi ricordate nella seconda puntata io vi ho detto che l'amministratore della piattaforma può distribuire le applicazioni cioè può fare in modo che compaiano automaticamente delle app che sono state registrate con il single sign-on con l'account Workspace sulle macchine degli studenti o dei docenti dove compaiono bene lo abbiamo visto finalmente compaiono all'interno del computer questa situazione chiaramente e ci sono anche le app del Play Store perché si può fare anche quello è anche retroattiva non è che si fa soltanto su un computer già configurato quindi andiamo già un pochino avanti con il discorso quando io soprattutto con le licenze vado a configurare il computer che cosa faccio? dico già che tutte le macchine che fanno parte della mia scuola di quella tale unità organizzativa saranno fatte così quindi io sono in grado di configurare in un colpo solo 100 150 200 Chromebook in un colpo solo quindi queste sono le app andiamo a vedere invece come è fatto il resto in basso troviamo fissate in questa che si chiama shelf e che può essere spostata anche a nostro piacimento in un'altra posizione le applicazioni che decidiamo di tenere come preferite quindi quelle che vogliamo tenere sempre qui invece in basso a destra abbiamo un centro di controllo che mi permette di avere delle informazioni quelle solite sulla connettività sul bluetooth eccetera e due cose che vi voglio mostrare la prima che è nativa la possibilità di trasmettere lo schermo verso un dispositivo Chromecast o verso un dispositivo uno schermo compatibile con la tecnologia Googlecast quindi se io in classe ho uno schermo una lavagna un proiettore che ha un Chromecast collegato posso in modo wireless chiedere ai miei studenti di dimostrare quello che stanno facendo sul loro Chromebook senza che si debbano spostare andare ad attaccare il cavo eccetera eccetera senza installare niente diciamo in modo nativo un'altra cosa interessante per la didattica è che l'acquisizione dello schermo anche questa nativa senza installare altre applicazioni mi permette non solo di fare il solito screenshot cosa che insomma fanno un pochino anche tante altre macchine ma anche proprio nativamente di andare a fare un video di quello che io faccio sul mio schermo il cosiddetto screencast e salvare il video qui dentro quindi cosa molto utile per preparare delle video lezioni ma torniamo un attimo nella nostra presentazione e parliamo di quella che è una delle caratteristiche più importanti dal mio punto di vista cioè il cosiddetto Play Store il Play Store è il marketplace presente sui tablet Android ma sul Chromebook ha un valore aggiunto infatti uno dei problemi di fornire delle macchine con il Play Store a scuola e che noi ci ritroveremmo con un Play Store non gestito in cui troviamo tutte le applicazioni indiscriminatamente quindi esponendo gli studenti in particolare al rischio di poter scaricare app non adeguate invece sul Chromebook noi abbiamo un Play Store gestito Play Store gestito vuol dire che decido io come scuola tramite l'amministratore non solo quali sono le app eventualmente scaricabili quindi le altre non si vedono neanche neanche se le vanno a cercare ma posso anche preinstallarle e posso addirittura fissarle nella barra in basso per rendere più accessibili velocemente magari a persone in difficoltà le applicazioni che mi interessano impedendone anche addirittura la cancellazione quindi il Play Store è veramente secondo me una delle cose più importanti più rivoluzionari che c'è stata negli ultimi 4 anni e la sintesi che mi permette di avere due oggetti in uno a tutti gli effetti e poi una cosa un po' sottovalutata forse Chromebook e levagna interattiva o comunque schermo interattivo si può fare perché si parla spesso del Chromebook come device da dare in mano agli studenti io lo vedo bene anche come device di classe per diversi motivi il primo è perché ne abbiamo già parlato nel primo incontro Jamboard ossia l'applicazione che mi permette di avere una lavagna interattiva sullo schermo è disponibile anche come app del Play Store la versione app sappiate ha sempre delle funzionalità in più in anticipo rispetto alla versione web e l'unico device che vi permette di avere un'applicazione Android in modo interattivo su uno schermo è proprio il Chromebook perché a quel punto vi basterà collegarlo alla vostra lavagna schermo interattivo col cavo USB e il cavo HDMI e di fatto avrete a tutti gli effetti un maxi tablet che abbia sia la parte computer che la parte tablet appunto quindi assolutamente Chromebook e LIM si fa e poi c'è un vantaggio innegabile che abbiamo anticipato prima non vi capiterà quasi mai di entrare al mattino in classe aprire il computer e scoprire che dovete fare 100 aggiornamenti e praticamente per le prossime due ore il computer sarà inutilizzabile se il computer ha dei problemi lo staccate prendete un altro Chromebook entrate sempre con il vostro account e ricominciate esattamente da come avete lasciato prima quindi Chromebook e LIM credo che sia un binomio assolutamente importante secondo me l'accessibilità è un computer per la scuola ma è anche un computer per tutti e qui in questa schermata ho un pochino raccolto quelle che sono dal mio punto di vista alcune delle possibilità quindi diciamo si possono aggiungere delle estensioni delle app di terze parti che mi permettono di rendere la macchina più accessibile ma il vero valore aggiunto del Chromebook dal punto di vista dell'accessibilità e pensiamo quanti sono gli studenti che hanno bisogno insomma di avere accessibilità su una macchina risiede nel fatto che l'accessibilità che c'è già all'interno di Chrome OS è un'accessibilità molto avanzata ora chiaramente non è questo il luogo la sede per approfondirla però di tre cose vi voglio parlare in particolare per esempio ChromeVox sarebbe praticamente lo screen reader permette a un ipovedente una persona comunque che ha dei problemi di visione di orientarsi all'interno dello schermo quindi di farsi leggere quello che sta cliccando cosa sta succedendo è uno screen reader a tutti gli effetti il seleziona per ascoltare è una sintesi vocale multilingua che funziona in tutti gli ambienti non soltanto quando stiamo facendo videoscrittura ma anche per esempio quando stiamo navigando sul web e infine la dettatura che abbiamo visto nella prima puntata dei webinar essere presente in workspace su Google Doc o nelle note del presentatore su Google Slide qui invece è disponibile su qualsiasi ambiente in cui io posso andare a scrivere quindi se anche scarico un'app terza di un altro sviluppatore che non prevederebbe la dettatura vocale in questo modo io posso dettare così come se sto utilizzando Google Chat per esempio per la messaggistica posso dettare i miei messaggi e inoltre non sto chiaramente a elencarvi tutte le altre funzioni non sto a dirvi che il Chromebook è compatibile con tanti altri hardware accessibili come barre braille sensori senza problemi di installazione driver con la maggior parte di questi oggetti è già compatibile quindi sicuramente un computer per la scuola ma un computer anche per tutti una piccola parentesi su questo perché penso anche agli utenti più avanzati alle scuole superiori che si dice che poi il Chromebook e il computer è troppo semplice non si possono fare alcune cose non è del tutto vero perché Chromebook e Linux non è una cosa poi così tanto da smanettoni perché si tratta di avere la possibilità di richiamare una finestra del terminale e avere per esempio delle applicazioni desktop che non potreste avere su una macchina di questo tipo ma in realtà adesso ce le avete LibreOffice Gimp Audacity ma pensiamo anche alle scuole che hanno bisogno di interagire con delle schede elettroniche per dei progetti di making con il Chromebook è possibile farlo proprio perché richiamando la finestra del terminale io posso andare di codice e posso andare a programmare anche le mie belle schede elettroniche quindi questo chiude un pochino il cerchio su tutte le possibilità che ha il Chromebook dal punto di vista anche dello sviluppo offline e poi arriviamo un po' concludiamo mi avvio verso la conclusione del mio intervento sul cuore della faccenda cioè la gestione del Chromebook perché noi abbiamo visto questo è il simbolo di Google Admin della console di amministrazione che io come amministratore posso gestire tante funzioni tante limitazioni tante personalizzazioni sugli utenti ma che gli utenti in qualche modo chiaramente su un computer che non sia un Chromebook potrebbero poi magari non so usare un altro browser potrebbero trovare uno stratagemma e sul Chromebook questo non è possibile chiaramente perché l'unico browser disponibile è Chrome e il sistema operativo è controllabile appunto tramite la console andando nella sezione dispositivi e chiaramente il tutto tutto questo controllo tutta questa gestione aumenta in modo esponenziale e se si abbina a questo Chromebook anche la licenza Chrome Education Upgrade che è una licenza che ci permette di andare a intervenire non soltanto lato utente ma anche proprio lato hardware se vi ricordate quando abbiamo guardato alcune impostazioni nel secondo incontro c'era un simbolo proprio di un computer e passando con il mouse su questo simbolo veniva scritto questa funzione disponibile solo su Chrome OS Device bene e questo è il caso che vi sto illustrando in questo momento per riassumere diciamo che per esempio vi ho detto non facciamo usare il Chromebook con account che non siano quelli della scuola con la licenza lo posso fare perché posso controllare l'accesso degli esterni e impedire che un account diverso da quello del mio istituto si possa loggare all'interno del Chromebook ma posso anche resettare a distanza i dati locali dell'utente nel caso in cui mi venga segnalato che ci sono dei problemi e la persona è impossibilitata a farlo così come posso avere un quadro per esempio dello stato dell'arte sugli aggiornamenti nella mia scuola dei computer perché è importante tenerli aggiornati per motivi di sicurezza anche noi perché funzionino meglio o vi ricordate la modalità kiosk di cui abbiamo parlato in Classroom nei moduli cioè poter bloccare la macchina su una determinata applicazione per esempio una verifica fatta con moduli per impedire che l'utente possa fare ESC e andare a fare altro ma pensiamolo anche in modo propositivo per esempio nel momento in cui vado a utilizzare la macchina come strumento di accoglienza nella hall della scuola e quindi voglio che ci sia soltanto un servizio specifico mi vengono in mente tutte queste funzioni che leggete ma ne dico altri il log out automatico che è una grande funzione di sicurezza cioè decidere la durata della sessione se un utente dimentica il Chromebook aperto posso decidere che dopo un minuto l'utente venga disconnesso per impedire che i suoi dati vengano esposti quando arriva un'altra persona tutte le limitazioni e le personalizzazioni e soprattutto la configurazione massiva che sono tante ore risparmiate per chi deve gestire le macchine perché altrimenti bisognerebbe come si è sempre fatto in altre occasioni con altre tipologie di computer entrare computer per computer possiamo anche prepararci la nostra chiavetta con tutte le cose già fatte ma comunque le ore perse per fare questa operazione ci sono tutte mentre in questo modo abbiamo visto che o retroattivamente o addirittura andando a prevedere che avrò 50 computer se io lavoro bene con la licenza con le organizzazioni e le unità organizzative sulla console riesco assolutamente a impostare i miei Chromebook e a configurarli a distanza in modo massiccio bene io vi ringrazio intanto oggi per l'attenzione per questa diciamo parte relativa al Chromebook e passerei adesso la parola a Stefano Romano di Samsung dandovi poi appuntamento a tra un po' per le domande che vorrete porci grazie perfetto Luigi grazie mille allora intanto presento me stesso mi chiamo Stefano Romano lavoro in Samsung in qualità di Product Marketing Manager per le categorie dei tablet e dei notebook intanto vorrei ringraziare di avermi invitato qua di avermi dato la possibilità di raccontarvi i nostri dispositivi vi confesso che un pizzico di emozione ce l'ho un po' per la diretta e un po' perché sono in una situazione quasi doppia perché sono qui in veste di produttore che vi racconterà i dispositivi che poi permettono di mettere in pratica le soluzioni che ci sono appena state raccontate ma dall'altro sono anche un fruitore perché avendo dei figli in età scolastica conosco bene anche dal punto di vista personale quali sono le necessità e le cose che fa piacere che avvengano pregherei alla regia di mettere la presentazione vi farò una breve panoramica di quelle che sono le soluzioni che Samsung propone a supporto della scuola nell'ambito del mondo Chromebook prima vorrei però approfittarmi per ringraziare i partner con cui siamo qui oggi magari cercando di mettere a fuoco anche le cose che abbiamo in comune il perché le nostre tre realtà vanno così d'accordo in ambiti come questo della scuola dell'attenzione all'evoluzione della tecnologia penso di poter parlare un po' a nome di tutti nel dire che quello che per noi è al centro di tutto è l'offrire una soluzione completa che funzioni è un po' quello che cercavo di esprimere nella mia presentazione a noi piace avere qualcosa che funzioni perché le cose devono funzionare sempre devono funzionare bene devono funzionare subito questi obiettivi sono quelli che animano tutte le nostre aziende nel portare le soluzioni complete al cliente alla scuola e allo studente al professore in questo caso in che cosa poi concretamente si declina questa questa partnership che ci porta a raccontare queste queste novità proprio oggi insomma dal lato c'è Tim che offre i suoi servizi di scuola digitale che poi sono raggiungibili attraverso il link che vedete sotto la slide ci siamo noi di Samsung che vi proponiamo i device c'è Google che mette oltre all'aspetto tecnologico mette a disposizione nell'insieme di questa partnership a 3 un'offerta che include tutto tutto quanto quindi oltre al device c'è la possibilità di avere una licenza Chrome Education Upgrade in modalità perpetua possiamo ora vedere un po' quelle che sono le caratteristiche dei nostri dispositivi lo diceva molto bene Luigi poco fa che cos'è un Chromebook un Chromebook è sostanzialmente un dispositivo che nasce per fare bene in maniera rapida veloce e confortevole quello che ci si aspetta da un computer il primo riassumendolo possiamo semplicemente dire potremmo metterci pochi secondi veramente a raccontare questo prodotto un Chromebook il Chromebook 4 Plus in particolare che è il primo prodotto che vediamo adesso è un bel prodotto è un bel dispositivo e funziona bene questa è la base di partenza dal punto di vista poi tecnico che cosa significa funzionare bene il primo elemento che salta naturalmente all'occhio e qua possiamo dire che Samsung ha un'esperienza e una focalizzazione nella produzione di questo elemento del dispositivo che è assolutamente straordinaria è il display il display nel caso del Chromebook 4 Plus ha una dimensione ampia 15,6 pollici ha una risoluzione di full HD e ha una qualità elevatissima qual è la necessità di avere un display ampio e riposante il dispositivo può essere utilizzato molte ore al giorno abbiamo avuto purtroppo situazioni di uso prolungato in DAD dei dispositivi per diverse ore al giorno sappiamo che richiede uno sforzo visivo non indifferente di avere un pannello di qualità fa la differenza nelle lunghe giornate di studio o perché no anche nelle successive ore di svago avere una buona qualità visiva che riduca l'affaticamento è qualcosa di assolutamente importante un elemento di design in questo caso che passa attraverso il monitor è la dimensione delle cornici che è un fattore che ha due vantaggi da un lato permette di avere una visione più coinvolgente una sensazione quasi di continuità fra lo schermo il dispositivo e l'ambiente circostante dall'altro permette di avere la dimensione dello chassis quindi la dimensione fisica del prodotto il più contenuta possibile quindi questo permette poi di introdurre un altro elemento fondamentale che è la trasportabilità il design il prodotto è importante che sia bello che sia funzionale che sia ben costruito da questo punto di vista il prodotto Chromebook 4 Plus è un dispositivo di costruzione senza compromessi dalla scelta dei materiali alle scelte stilistiche alla la tastiera con i tasti a isola insomma tutto è pensato e curato per offrire un prodotto di qualità tra i particolari dettagli che magari a volte possono passare inosservati però rendono idea del lavoro che c'è dietro alla progettazione di un prodotto che nasce da un'attenzione all'esigenza di chi lo utilizza all'ambiente in cui viene utilizzato il fatto ad esempio che non ci siano viti sporgenti o che non ci siano elementi comunque che possano andare a graffiare il tavolo graffiare il banco incastrarsi con i fogli o i libri che comunque vengono utilizzati nella quotidianità è una dimostrazione di quello che dicevamo prima l'attenzione offre una soluzione che non lasci nulla al caso che non dia nulla per scontato la trasportabilità parlando del dispositivo in versione 15,6 pollici abbiamo un prodotto dal design sicuramente ultra sottile e dal peso contenuto parliamo di 1,7 kg in uno spessore di 16,5 mm quando naturalmente il coperchio viene chiuso perché è importante questo perché lo sappiamo bene il device verrà utilizzato vengono utilizzati nei diversi ambienti della casa spesso devono essere facilmente trasportabili devono essere portati a scuola in maniera rapida già i libri non sono ancora del tutto scomparsi vi assicuro che soprattutto quando vedo la cartella dei miei figli avere un prodotto leggero quando deve essere trasportato è sicuramente una necessità molto sentita parlavamo di funzionalità di un prodotto che deve funzionare bene ce l'ha spiegato bene Luigi dal punto di vista del sistema che è a bordo quindi del cuore pulsante di una soluzione Chromebook ci si aspetta naturalmente che anche la parte hardware anche il dispositivo fisico lavora in sinergia con il sistema operativo per garantire un'esperienza senza alcun tipo di frizione senza alcun tipo di difficoltà altro particolare non da poco è la la robustezza e la resistenza è un tema che naturalmente è molto sentito per i ragazzi giovani che soprattutto in ambiente di mobilità dove possono esserci oltre possono esserci degli incidenti può cadere un dispositivo possono succedere problemi di ogni natura i dispositivi Samsung sono testati secondo il military standard 810G quindi vengono sottoposti in una serie di stress test che mettono alla prova la robustezza la resistenza del dispositivo la velocità è quello che ci si aspetta voglio aprire un device ormai tutti siamo abituati all'esperienza immediata e super rapida di un telefonino per esempio ci si aspetta lo stesso tipo di reattività anche dal pc dal computer ecco allora che il Chromebook permette di avere questa rapidità che poi è accompagnata anche dalla velocità della gigabit wifi quindi una connessione dati ultra rapida che mi permette di sfruttare tutte le funzionalità basate sul cloud quindi dell'universo Google Workspace for Education in maniera rapida e istantanea quindi eliminando il confine fra il dispositivo e il cloud in maniera quasi totale parlavamo di semplicità di utilizzo di un prodotto che deve essere comode e confortevole ecco che si utilizza un touchpad il più ampio possibile parlando della dimensione 15,6 del device quindi la versione più grande del Chromebook 4 Plus il touchpad è da 5,7 pollici il più grande è il trackpad più sarà confortevole e comodo l'utilizzo in totale mobilità quindi quando non sono a casa che magari posso anche accoppiare un mouse o un dispositivo di puntamento la USB Type-C questa è una caratteristica utilissima per semplificare tutto quello che ruota attorno al prodotto perché è lo standard che ormai siamo abituati a vedere anche sul nostro smartphone avere lo stesso connettore con cui poter ricaricare diversi device è evidentemente un vantaggio soprattutto nelle case di oggi dove di dispositivi elettronici ne abbiamo tanti poter ridurre almeno il numero degli adattatori è un'altra cosa che fa la differenza nella vita di tutti i giorni la durata della batteria qua mi aggancio anche a spiegare un'altra un'altra opzione che abbiamo sui nostri Chromebook durata della batteria estremamente lunga questo grazie all'ottimizzazione del sistema permette di lavorare e studiare serenamente per un'intera giornata senza interruzioni oltre alla versione Chromebook 4 Plus di cui abbiamo parlato finora c'è anche una variante diciamo più contenuta in termini di dimensioni c'è una versione da 11,6 che si chiama semplicemente Chromebook 4 che ha delle dimensioni inferiori rispetto alla versione col polliciaggio maggiore quindi versione 11,6 pollici il peso scende dall'1,7 kg che avevamo prima 1,18 lo spessore 16,8 mm ricapitolando insomma vedendoli insieme i due dispositivi rende l'idea della doppia scelta in termini di dimensioni questa era l'ultima slide che volevo farvi vedere per cui posso ripassare la parola a Luigi vi ringrazio per l'attenzione bene grazie Stefano adesso passiamo come di consueto a rispondere ad alcune delle domande che ci sono state poste allora se non ti dispiace iniziere io rispondo a tre domande in un colpo solo e poi ho tre domande anche per te perché mi permettono queste tre domande di così di un pochino di dare una risposta complessa dunque mi chiedono ma i Chromebook sono abbastanza diffusi? poi qualcuno mi chiede come si fa con la compatibilità dei software e infine quanto durano gli aggiornamenti poi davvero allora sono abbastanza diffusi avete visto ve l'ho detto durante la mia presentazione che il Chromebook non nasce oggi nasce ormai dieci anni fa chiaramente non ne ha avuto subito una diffusione così forte non in Italia almeno diciamo che è una diffusione che è stata graduale che esplosa soprattutto nell'ultimo anno e mezzo negli Stati Uniti in modo particolare ma anche in Italia adesso il Chromebook è diventato praticamente non voglio dire uno standard ma sicuramente un punto di riferimento e uno dei motivi principali è proprio quello che quando poi si riesce a capire che il flusso di lavoro a scuola si riesce ad effettuare senza avere degli intoppi delle perdite di tempo questo è un vantaggio molto molto importante rispetto a quello di dover magari rinunciare proprio a fare del digitale a scuola perché ci sono dei problemi così tecnici ricordiamoci che siamo insegnanti almeno adesso mi rivolgo ai colleghi chiaramente e noi abbiamo la didattica in testa principalmente quindi non possiamo metterci anche a risolvere dei problemi tecnici ci vuole uno strumento che ci permetta di superarli questi problemi e il fatto della compatibilità del software è una vecchia diatriba Google è stata con i Chromebook ma anche con Workspace una delle prime diciamo aziende a pensare che il futuro fosse il cloud e so inutile dire che il cloud è il futuro è il presente non esistono oggi dei servizi delle applicazioni che non esistano anche come web application e quindi che debbano essere utilizzate online quindi Workspace stessa abbiamo visto non il primo incontro ha tutta una serie di strumenti che vanno a coprire tutte quelle che sono le esigenze della didattica a scuola sia della didattica generale che della didattica di materie specifiche e infine sulla questione degli aggiornamenti vi porto proprio un'esperienza personale io ho avuto la fortuna di coordinare e di seguire uno dei primi progetti sulla diffusione dei Chromebook penso uno dei primi in Italia otto anni fa nove anni fa quasi assicuro che quelle macchine funzionano ancora si accendono bene insomma non hanno non risentono così tanto degli anni come si potrebbe pensare rispetto a una macchina magari più tradizionale diciamo uno in mente o il mio vecchio computer che non parte più quindi sì secondo me queste tre questioni che sono state poste un po' da tre utenti diversi però le risposte a queste domande sono queste secondo me è un computer che ormai è molto diffuso non bisogna preoccuparsi della compatibilità dei software perché ormai bisogna abituarsi ve l'ho detto tante volte in questi incontri a lavorare nel cloud e sugli aggiornamenti non esistono cioè non esistono ma ci sono pochi computer che possono aumentare una quantità di aggiornamenti così lunga come il Chromebook invece Stefano ho delle domande per te cominciamo con questa l'utente ci chiede tra i due modelli che hai presentato quale consiglieresti per gli studenti delle scuole superiori è una bella domanda perché non è mai facile scegliere fra due dispositivi che sono entrambi chiaramente belli direi che il criterio di scelta è come al solito l'utilizzo che l'esigenza che la persona può avere pensando a un ragazzo di quell'età mi viene da dire che probabilmente ne farà un uso intenso lo userà spesso per fare molte ricerche per produrre magari anche contenuti visivi per scrivere molti testi di conseguenza probabilmente una una scelta buona può essere la versione con lo schermo più grande il 15.6 potrebbe cambiare radicalmente l'impostazione se il dispositivo deve essere sempre portato quindi in uno scenario in cui il ragazzo è chiamato a utilizzarlo sia a scuola sia a casa in questi contesti di utilizzo propenderei per la mobilità maggiore per un dispositivo facile da inserire in cartella e allora meglio meglio l'11.6 bene invece un'altra domanda che è un po' più così in generale ci chiedono come mai Samsung ha deciso di iniziare a produrre anche questo tipo di device allora potrei rispondere anche qui in due modi uno da persona come dire di marketing e dire caspita è un mercato in forte espansione è un mercato in continua crescita che continua trimestre dopo trimestre a segnare record importanti quindi potrei dire questa risposta facile però penso che sia un po' più articolato di così il motivo vero Samsung è un'azienda che ha sempre dimostrato e continua a farlo di essere molto attenta a quelle che sono i trend di evoluzione del mercato quelle che sono soprattutto le nuove necessità delle persone di conseguenza in un mondo che si sta trasformando in un mondo in cui sempre di più diventa chiara una necessità di questo genere quindi quella di avere dispositivi che siano semplici che funzionino bene e permettano di fruire di questa interazione con il cloud come spiegavi tu che non è più il futuro ma il presente ecco la volontà di stare vicino alle persone vicino ai clienti dandogli gli strumenti di cui loro hanno bisogno ecco questo penso che sia il vero motivo di interesse allora direi che c'è spazio per un'ultima domanda che in realtà è di più persone quindi magari te l'aspettavi probabilmente ci chiedono quanto costano i due Chromebook che hai presentato allora qua diamo ovviamente il dato di prezzo consigliato al pubblico che è il dato che da mon vendor noi normalmente indichiamo per le due versioni abbiamo 360 euro IVA inclusa come prezzo suggerito al pubblico per la versione da 11 pollici la versione da 15 6 il prezzo suggerito al pubblico è 410 euro penso che sia il momento giusto per ricordare che c'è un'offerta molto vantaggiosa sotto diversi punti di vista che è fruibile attraverso il portale di team che prevede oltre all'acquisto a un prezzo estremamente competitivo sarà facile poi fare i conti rapidamente rispetto ai prezzi che è indicato prima ma soprattutto include anche la licenza Chrome Education Upgrade bene allora direi che a questo punto possiamo dire che il nostro viaggio in quattro incontri nel mondo Google Workspace for Education e in particolare Chromebook in questa ultima puntata si conclude qui vi ricordo ancora una volta che tutte le registrazioni dei quattro incontri sono disponibili sul canale YouTube di Team Business quindi le potete riguardare andando sul canale di Team Business non ci resta quindi che ringraziarvi per averci seguito in questo breve percorso e noi vi auguriamo un buon pomeriggio e soprattutto da collega a colleghi buona fine di anno scolastico a presto e grazie